Ciao a tutti, oggi vi mostro la Green, ovvero una ragazza di Palermo che realizza articoli con ricamo a mano. Adesso vi faccio vedere che cosa ho ricevuto. Allora, abbiamo questo bigliettino. Ciao Giovanna, grazie per l'interesse mostrato per la mia pagina e spero tanto che apprezzerà le magliette. Ho voluto mandarti anche Mayna Gioia perché quello è uno status mental di tuo. Spero piacciono anche la tua community. Buona giornata Giulia da Green. Adoro, grazie mille. Allora, vediamo la prima maglietta. Ovviamente taglia S. Allora, vi faccio vedere qui abbiamo la pasta e il pomodoro, quindi tipica da food blogger una maglietta proprio ad hoc. Poi quest'altra bella maglia con la scritta Mayna Gioia che comunque Giulia confermo che effettivamente questo è uno status mentale di tutti. Che comunque Gioia ne riceviamo poca niente. Comunque ti ringrazio perché è fantastica sia questa ma anche questa. Adoro, adoro, adoro. Non vedo l'ora di provarle. Ve le farò vedere addosso. Comunque vi consiglio di contattarla perché questa ragazza proprio realizza tutto cucito, tutto a mano. È fantastico. Ciao.